Una parte degli utili 2020 di Estra e Coingas sia destinato ai bisogni del territorio. Questo è l'invito che arriva da Acli, Arci e Movimento Cristiano, lavoratori di Arezzo, che all'indomani della presentazione dei bilanci della holding di Luce Gas chiedono di prevedere strategie e iniziative a sostegno di persone e famiglie che vivono situazioni di precarietà e povertà gravate dall'attuale emergenza sanitaria. I numeri annunciati parlano infatti di utili netti di Estra più che raddoppiati rispetto al 2019, con conseguenti benefici anche per Coingas che in qualità di socio dovrà e potrà reinvestire a favore del territorio. La proposta dunque è quella di destinare parte di queste risorse ai servizi della Caritas diocesana che ogni giorno fornisce assistenza a decine di persone con problematiche economiche, abitative e lavorative tra centri di ascolto, menze ed accoglienza, oltre che di prevedere buoni spesa e misure di supporto ad altre iniziative sociali attivate in città per far fronte alle diversificate situazioni di bisogno. Acli, Arci e Movimento Cristiano, lavoratori, chiedono infine anche a Destra di valutare nuove modalità di aiuto che prevedono ad esempio ulteriori riduzioni delle tariffe delle bollette o una sanatoria sulle morosità per le famiglie con comprovate criticità economiche.